Nome? Nicole Giulia Federico Giulio Nome? Burra Ferrara Bassano del Grappa Viziona a Bologna Ferrara A Turchia Sono turco ma abito in Bologna per 4 anni Hai sempre visto il basket? Sì, sì Sì Da quando si suona? È il primo giorno che vengo al festival ma non il primo anno Festival di 10 No, no, io l'avevo sempre visto tutte Boh, non so se sono andato prima io al basket festival Viene qua un'altra volta Sì, ma è very good per me Bello, coinvolgente, spettacolare Poliedrico Colorato E divertente Vivace Colorato E Coinvolgente Bellissimo, si riempie la città e sono belli Sono simpatici e Grazie 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 a vederlo Bravi perché organizzano tutto ok È una bellissima iniziativa perché raccoglie Guardo lì Che raccoglie Artisti che vengono da nazioni diverse tutti gli anni Molto bello che una città possa organizzare una cosa simile L'azione che io condivido Proprio perché appunto chiamo a Ferrara turisti, giovani Fa conoscere la città in tutti i suoi aspetti Tutto fantastico qua, si sta da Dio Cioè veramente la gente è troppo coinvolgente e troppo solare È bello, lo consiglio a tutti Venite al basket festival Viva il basket festival, sempre